Sono cinque anni che vivo a Fossombrone ed è da ieri praticamente che mi sono morte due gattine che acudivo io nella gattina ecco randage. Il motivo è stato appunto un avvelenamento. Le gattine praticamente sono state avvelenate in quanto nella ferrovia dismessa è stato messo appunto del materiale velenoso. Una è già morta, l'altra è in fase clinica. Io sono andata all'Azur, sono andata da polizia. Ragionano tutti a livello di legge e non di cuore. Uno si butta la palla sull'altro nel senso appunto nessuno si prende delle decisioni. Ci sono ancora altri gatti e sono in pericolo. Quindi io volevo denunciare questa cosa. L'indecenza e la cattiveria e il fatto che non ci sia un gattile, il fatto che non ci siano strutture e che il vecchio sindaco non abbia fatto nulla. Il gatto è considerato come una cosa e non viene assolutamente tutelato come gli animali che vengono tenuti alla catena nelle campagne. Ci sono dei gatti in pericolo e non stanno facendo niente. Non sono neanche venuti a vedermi la zona dove la gatta appunto si è avvelenata. In quanto è avveleno proprio perché l'ho visto io, perché la gatta comunque ha buttato saliva, ha buttato una sostanza verde che si presume sia veleno per lumache. Che mettono questi contadini, gente anche insensibile, nell'orto dove nella stazione di smessa appunto, ma gli orti sono in un posto pubblico dove i gatti poverini camminano. Quindi è stato un atto più che altro voluto perché comunque, come ripeto, non vengono assolutamente amati e più di una volta io ho avuto delle offese proprio perché li sto accudendo. Ci sono dei gatti in pericolo, più di così veramente non so cosa fare. Sono venuta qui a Rossini TV perché credo in questa emittente e credo che mi possiate dare una mano.